Musica Ben trovati, nuova sigla, nuova stagione di l'intervista, torniamo e parliamo di politica Cominciando con il centrodestra, perché in questi giorni è al centro dell'attenzione Prima per il mancato successo del candidato voluto da Silvio Berlusconi alla consulta Antonio Catricalà che non è stato votato da una parte della stessa Forza Italia Poi per le polemiche che hanno visto uno scambio di messaggi tra la tesoriera di Forza Italia Maria Rosaria Rossi e l'eurodeputato più votato alle ultime elezioni, vale a dire Raffaele Fitto Perché ci occupiamo di questioni interne a Forza Italia? Perché è importante capire se nei prossimi mesi tutti i temi che sono sul tappeto Che interessano noi cittadini a cominciare dalla riforma del lavoro, dalla lotta alla disoccupazione Troveranno uno sbocco in un certo modo o se invece ci avvieremo a una campagna elettorale Chissà, magari anticipata Per capirne di più, oggi abbiamo proprio Raffaele Fitto E come sempre prima, la scheda di Lorenzo Gargi Raffaele Fitto è nato a Maglia in provincia di Lecce 45 anni fa È stato ministro per gli affari regionali e presidente della regione Puglia Ora è eurodeputato di Forza Italia Da qualche mese rappresenta l'anima riformatrice del partito Ed è un convinto sostenitore delle primarie Di recente ha detto Lascia allibiti il fatto che Berlusconi consenta alla senatrice Rossi Di rilasciare o ritirare patenti sulla legittimità dello stare nel partito E sulla correttezza delle opinioni altrui Buona domenica Raffaele Fitto Mi faccia capire, tutta questa tensione attorno alle primarie Che onestamente non è proprio in testa alle preoccupazioni degli italiani Dipende dal fatto che ci dobbiamo preparare a una campagna elettorale Prima o poi e che un Berlusconi dimagrito, rinfrancato Pensa di ricandidarsi lui? Ma guardi, innanzitutto buona domenica Lei e i telespettatori Io penso che non ci sia un dibattito sullo strumento necessario Quali le primarie, sulle quali magari dirò qualcosa anche successivamente Cosa di cui sono convinto Ma penso che ci sia bisogno di affermare con chiarezza Chi siamo, qual è la nostra identità E qual è il progetto politico che noi proponiamo ai tanti elettori Che nelle ultime elezioni ci hanno dato un segnale molto chiaro Noi siamo un partito che in 5 anni è sceso da 13 milioni di elettori A 4 milioni di elettori E penso che sia questo il tema sul quale dobbiamo concentrare la nostra attenzione Senta, anche Francesca Pascale, la fidanzata di Silvio Berlusconi Questa mattina sul Fatto Quotidiano se la prende con lei Lei rappresenta la fronda dentro Forza Italia Quanti siete in realtà? Ma guardi, assolutamente no Io non sono abituato a rappresentare le fronde perché le fronde di regola si muovono nel silenzio Io sono abituato invece ad affermare con chiarezza le mie opinioni L'ho sempre fatto, penso che sia utile ribadirlo E soprattutto penso che sia indispensabile aprire un dibattito all'interno del partito Io rispetto le opinioni di tutti Non sono per mettere in campo scontri Ecco, non accetto quello che è accaduto l'altro giorno Cioè che mi si dica con un'intervista che le mie opinioni, che possono essere discutibilissime Devono essere sostenute da un'altra parte Questo no E da qui è nata anche una polemica Io penso che sia utile discutere all'interno del nostro partito Rispettandoci Perché lei ha detto che Maria Rosaria Rossi non ha titolo di fare le osservazioni che ha fatto E di dirle, beh, se vuoi le primarie vai a farle da un'altra parte Perché non ha titolo nessuno per poter dire questo all'interno di un partito Perché penso che sia indispensabile mettere in campo un dibattito libero Io sono un sostenitore delle primarie C'è chi non sostiene le primarie Io non condivido chi pensa di dover mettere in campo un'azione Fra responsabili di partito Per cercare di mettere insieme una iniziativa politica Che possa ricostruire fra difficoltà tante un'alleanza E penso che sia importante aprire un dibattito sul territorio Chiamare i nostri elettori Aprire al confronto Cercare di rivitalizzare il nostro elettorato con le primarie Chi non è d'accordo su questo? Io lo rispetto Non accetto però che mi si dica che le mie tesi devono essere sostenute Perché diverse da un'altra parte Questo è il nostro partito e il mio partito E io in questo partito ci sto da sempre e continuerò a starci Quindi non andrà ad Arcore a dire Caro Presidente Berlusconi scegli o me o Maria Rosaria Rossi? Ma assolutamente no Anche perché sarebbe un approccio del tutto sbagliato Io penso che ci sia anche una costruzione esagerata Rispetto a queste contrapposizioni La mia idea è quella di aprire un confronto all'interno del partito Per stabilire un tema centrale Noi abbiamo bisogno di far capire ai nostri elettori Che rappresentiamo l'opposizione a questo governo Che siamo proprio rispetto alle cose che lei diceva Introducendo questa trasmissione Le politiche sul terreno del lavoro L'interlocuzione con le imprese I dati economici di questo paese Sono dati economici che dopo sette mesi di governo Renzi Lasciano assolutamente grandi perplessità Sulla politica degli annunci Noi dobbiamo mettere in campo un tentativo chiaro e netto Di avviare un'iniziativa politica Che possa far capire che c'è un'alternativa Senta, mi pare però che Sempre nell'intervista della Repubblica che ho citato Maria Rosaria Rossi attribuendolo a Matteo Renzi Lasci capire che invece C'è una possibilità di andare ad elezioni anticipate Significa che Berlusconi ci sta pensando Ripeto, ha fatto una bella dieta quest'estate In piena forma e magari si candida lui D'altra parte, cito sempre l'intervista Dice ci sarà un Berlusconi candidato Quindi chi se non Berlusconi medesimo? Guardi, io sono contento che il Presidente Stia in ottima forma Quindi non è questo il tema Su quale dobbiamo discutere Io penso che la responsabilità Del governo del paese Oggi sia nelle mani di Renzi E della sua maggioranza Noi seppur fra mille discussioni Abbiamo attivato con il Patto del Nazareno Un accordo sulle riforme Dobbiamo garantire Magari discutendo di più al nostro interno Il percorso delle riforme istituzionali Ma le politiche economiche Le scelte di questo governo A noi non ci appartengono Quindi noi abbiamo bisogno E questo è il tema che io pongo Di una questione che faccia capire Che noi siamo opposizione a questo governo E penso che ci sia bisogno Di una opposizione in questo paese A questo governo Perché ritengo che sia indispensabile Non solamente per i nostri elettori Ma anche per un confronto Dialettico, civile e democratico Nel quale non ci sia Un ragionamento intorno a Renzi Vale a dire Se dal nostro interno Diciamo che Renzi è bravo E che addirittura Dobbiamo sostenerlo Non fare opposizione E qui non va la cosa Nel senso che Non ci comportiamo in linea Con quello che è L'auspicio dei nostri elettori E soprattutto Non garantiamo Quella alternativa a questo governo Allora le elezioni Quando saranno Sono frutto di Una assunzione di responsabilità Innanzitutto di Renzi E della sua maggioranza Che dovrà dire Che i mille giorni Che dovrà dire Che il 40% Dell'europea Che dovrà dire Che il lavoro fatto E le promesse fatte E le indicazioni fatte In questi giorni Sul fronte delle riforme Del rilancio del nostro paese Non era vero Noi dobbiamo Accelerare il nostro dibattito Al nostro interno Per essere pronti In qualsiasi momento Questo è il compito Che spetta All'opposizione Se a lei o a qualcuno Sembra Che questo sia Un tema Che non consente Di poter stare All'interno Di un partito Di opposizione Io mi permetto Di invertire Un po' il ragionamento Nel senso che Qui nella maggioranza E nell'opposizione Si possono delineare Le nostre posizioni Forza Italia Deve essere Il motore trainante Di una riorganizzazione Del centro-destra Si ho capito Che possa mettere in campo Una proposta alternativa Questo è il tema E quindi se dovesse esserci Una opposizione silenziosa Oppure se la percezione Mettiamola così Risca di essere quella Di una opposizione silenziosa Che rischia di perdere La sua credibilità Noi dobbiamo stare attenti Dobbiamo riposizionarci In modo chiaro su questo Ok questa è la sua posizione Poi mi pare che però Appunto nei fatti Le cose siano diverse E comunque la strategia La decide Berlusconi Il quale Berlusconi Per esempio ha deciso Di vedere le forze Dell'ordine Dopo le tensioni Che ci sono state Tra le forze dell'ordine E il governo Renzi Per l'annunciato blocco Dei salari Secondo lei Questo incontro Che ci sarà Nasce dalla necessità Di arginare Una certa fascinazione Che si è detto Nei mesi passati Poteva esserci Tra le forze dell'ordine E il movimento 5 stelle O nasce l'incontro Diciamo Berlusconi Forze dell'ordine Per dar fastidio Un po' Al ministro Dell'interno Alfano Ma non si tratta Di dar fastidio Io penso Che bene Abbia fatto Berlusconi A convocare i rappresentanti Delle forze dell'ordine Su un tema Di grandissima rilevanza Sul quale il governo E il presidente del consiglio Hanno compiuto Uno scivolone clamoroso E il compito Della opposizione È quello Di dare voce A chi Giustamente Chiede un'interlocuzione In questo senso E di incalzare Il governo Su questo Quindi Penso che Ecco Questo esempio Testimoni Come noi dovremmo Delineare Disegnare Il nostro ruolo Di opposizione Quindi se All'iniziativa Di mercoledì Se non erro Dell'incontro Con le forze dell'ordine Eseguiranno altre Sui tanti temi Per i quali Noi riteniamo Che l'azione Di questo governo Cominci a Dimostrare Sempre di più La sua negatività E la sua mancanza Di efficacia Noi abbiamo Il compito Di svolgere Questa funzione Quindi va bene Questo incontro Assolutamente Alfano come se l'è cavata Secondo lei In questa circostanza Ma guardi Noi abbiamo Un governo Diciamo Guidato da Renzi Sotto tutti i punti di vista Quindi la percezione esterna Me lo consentirà Questo è che Ci sia un governo Che nasce Si sviluppa E ruota Intorno Alla figura Del presidente Del consiglio E temo Per tutti i colori Quali Stiano all'interno Anche sui temi Sui problemi Che emerga Sempre di più Un ruolo di Comprimari Di secondo piano E che sicuramente Non incidono In questa direzione Mi fa capire Perché è stato Candidato Catricalà Alla consulta È stato il candidato Ufficiale di Berlusconi E poi non è stato votato Dalla stessa Forza Italia Guardi Innanzitutto I numeri Indicano in modo Molto chiaro Al dià delle semplificazioni Che il voto È stato un voto Molto particolare Molto complesso Fra i diversi Gruppi parlamentari Nel senso che Attribuire Alle sole Divisioni O alla mancanza Di indicazioni Da parte di Forza Italia L'esito Di questa votazione Sarebbe un errore Io penso Che ci sia stato Invece E che ci sia Un problema All'interno Di diversi gruppi A partire dal gruppo Del Partito Democratico Anche perché Come è noto Il numero dei voti Da raggiungere Per essere eletti Giudici della Corte Costituzionale È così ampio Che il tema Dei numeri Di Forza Italia È assolutamente Una parte Del problema Detto questo Io penso Che ci sia bisogno Anche su questi temi Di avere un'occasione Di confronto maggiore Magari Lo dico Senza polemica Molto serenamente Avendo ascoltato Io non sono parlamentare nazionale Quindi non voto Ma ho avuto modo Di ascoltare Molti colleghi Io penso Che sia utile Sarebbe stato utile Magari Avere occasioni Per Un maggior coinvolgimento Forse questo Avrebbe evitato Evidentemente Delle situazioni All'interno dei gruppi Che non sono attribuibili Ad una logica politica Mi pare di capire Che lei dica Mi pare di capire Che lei dica Traduco C'è Una candidatura Ufficiale Dei due partiti Catricalà E Violante E poi ci sono Delle candidature Che non sono uscite Che una parte Del PD Magari La parte renziana Che potrebbe Gradire Che ne so Augusto Barbera O altri nomi Che corrono E La parte Di Forza Italia Che fa capo A Verdini Che magari Preferirebbe Donato Bruno È così? No Non ho detto questo E ne potrei dire questo Violante E Catricalà Sono due nomi Di grande livello Il tema è un altro Il tema è Riuscire a far sì Che i gruppi parlamentari Magari Non sappiano A pochi minuti Dal voto Le indicazioni Ma possano essere Maggiormente coinvolti Questo secondo me Potrebbe Evitare questi problemi E potrebbe Dare magari Anche Un risultato Un esito diverso Ma questo Non può essere Attribuito A un dissenso Singolo O di un gruppetto Questo è Uno stato d'animo Un po' più ampio Che io penso Non vada enfatizzato In contrapposizione Ma vada compreso Per poter avere Maggiori luoghi E maggiori momenti Di dialogo E di confronto Per poter sviluppare All'interno del nostro partito Un momento di confronto utile Che penso sia decisivo E necessario All'interno di qualsiasi partito Sì Lei chiede il confronto Ha preso anche un sacco di voti Alle europee È stato Il più Votato Però le ricordo Che anche Scaiolan Aveva un Grande Seguito Elettorale Nella sua Liguria E però Questo poi Non gli ha consentito Per esempio Di essere candidato Alle europee Lei come ce l'ha fatta A farsi candidare Si è imposto Con Con quali metodi Ma con nessun metodo Ho posto la mia candidatura All'interno dell'ufficio di presidenza Spiegando le ragioni Per le quali Io chiedevo Di essere candidato Nel senso che In un momento di difficoltà Del nostro partito E il dato elettorale Lo ha confermato Nella prima campagna elettorale Nella quale il presidente Berlusconi Non poteva candidarsi Io ho ritenuto opportuno Svolgere questo ragionamento In questo momento C'è bisogno Che tutti scendano in campo Io avrei auspicato Anche una Maggiore presenza Anche di altri Esponenti All'interno Perché era un momento Perché era un momento Nel quale serviva Un impegno collegiale Per testimoniare E dimostrare Una mobilitazione Più forte E in effetti Il risultato elettorale Per una serie di ragioni Anche per questo Penso che non abbia Dato a noi Le soddisfazioni auspicate Detto questo Avendo posto la candidatura Io ho fatto La mia campagna elettorale Il partito Ha accolto Nell'ufficio di presidenza Questa candidatura E quindi Oggi sono parlamentare europeo Anche questo Penso che sia Stato un tema Io ho ricevuto Molte critiche Sull'ipotesi Che la mia Era una candidatura Finalizzata esclusivamente Al dato elettorale Io ho optato Per il Parlamento europeo Debora Bergamini Che è la portavoce Di Forza Italia Quando lei Ha ribattuto Alle osservazioni Della tesoriera Rossi Ha detto Beh Fitto è uno Che pensa solo A raccogliere voti per sé Ma guardi Io non ho bisogno Di polemizzare E vorrei proprio Veramente evitare questo Lo faccio Solo quando sono tirato Per capelli Come è stato L'altro giorno Perché dirmi Pubblicamente Che le mie tesi Le vado a sostenere Da un'altra parte Non lo accetto E replico In modo netto e chiaro E quindi Non ho da replicare In questo senso Ho da dire Che io ho fatto Il capolista Della lista di Forza Italia Quindi i voti Che ho preso per me Innanzitutto Li ho presi Nel mio partito E per il mio partito Le due cose assolutamente Coincidono Quindi sinceramente Non mi sembra Una critica intelligente Né mi sembra Una critica utile Al nostro dibattito politico Noi abbiamo bisogno Secondo il mio punto di vista Di invertire Un meccanismo Che è quello Che ci ha accompagnato Fino adesso Il meccanismo È che La selezione Della nostra classe dirigente Possa essere avviata Con un percorso Di partecipazione Il tema delle primarie Io non lo voglio Agitare contro qualcuno Voglio sostenere Le ragioni di questo Noi abbiamo Per esempio Nei prossimi giorni Nei prossimi mesi E nella primavera Un appuntamento Molto importante Qual è quello Delle elezioni regionali Io sostengo Che sia necessario Fare le primarie Ma non lo sostengo Contro nessuno Perché è legittimo Che altri sostengono Il contrario Io ritengo Che Avviare un tavolo nazionale Che discuta Con tutti i partiti Per qualche mese Per poi produrre Se riuscirà Una soluzione dall'alto Sia un meccanismo Che non coincide Col sentire comune Dei nostri elettori Se non si fanno Se non si fanno Le primarie Mi scusi Mi scusi Se non si fanno Le primarie Dentro Forza Italia Lei che fa? Se ne va dal partito? Ma io Ma guardi Allora qui c'è Un ragionamento E vedo anche Diciamo delle sollecitazioni All'interno del mio partito Ho già detto più volte Che Se il tema è quello Della provocazione Per la reazione Non solo io Non reagirò Ma non farò nemmeno Un'azione Da cartellino giallo Figuriamoci Se la farò Da cartellino rosso Nel senso che io Nel mio partito C'ero E c'ero quando Il momento era di difficoltà Io nel mio partito C'ero quando altri Hanno compiuto scelte Sbagliate Di andare via Io nel mio partito Ci sono E nel mio partito Ci sarò Sostenere le tesi E le voglio dire Proprio in sintesi Che si debba fare opposizione Al governo Renzi E sostenere la tesi Che per la selezione Della nostra classe dirigente E per le elezioni Sia importante Un coinvolgimento dal basso Per rigenerare Il nostro elettorato Io penso Che siano due tesi Compatibili Con la permanenza Nel partito Che è un tema Che io sinceramente Non mi pongo Quindi se ne facciamo Una ragione Chi la pensa diversamente E' bene che sostenga Le sue idee Se le loro idee Sono idee che prevarranno Io ne prenderò atto Non condividendo Ma stando Nel mio partito Quindi se ne facciamo Una ragione Lei è E resta In Forza Italia A differenza Di tanti altri Non c'è dubbio Su questo Di tanti altri Che appunto Cito Nel centrodestra Ci sono stati tanti Che poi Opponendosi E la linea Di Berlusconi Alla fine Sono andati via All'inizio Follini Parlo del centrodestra Allargato Poi Fini Ultimo Alfano Lei questo Non lo farà Assolutamente no Io sosterrò All'interno Del mio partito Le mie tesi E lo farò Perché sono convinto Che queste tesi Siano tesi Largamente Fortemente condivise E io penso Che su queste tesi Ci si debba Si debba aprire Un confronto Questo Questo l'ha ripetuto Veramente Tante volte Credo che sia arrivato Dritto e chiaro Agli elettori Mi faccia chiedere una cosa Ma guardi Che lo ripeterò Ancora molte volte Nei prossimi Mesi E nei prossimi giorni Senta Raffaele Fitto Ho ancora due domande Perché abbiamo Due minuti soltanto La prima è Ieri Matteo Renzi È stato in Puglia Ci sono state Anche Delle critiche Da parte Per esempio Dei lavoratori Dell'ILVA Lei da Pugliese Da ex governatore Non ha niente Da rimproverarsi Sulla situazione Dei lavoratori Pugliesi Lei che è un uomo potente In Puglia Un uomo potente Che è all'opposizione Da tantissimi anni Quindi anche questa È una leggenda Metropolitana Me lo consentirà L'ultimo anno In cui ho fatto il presidente La regione Nel 2005 Che poi Diciamo La polemica politica Può portare A rappresentare Ancora responsabilità A distanza di dieci anni Ci può pure stare Per carità Io rispetto Tutto e tutti Mi sembra una tesi Sinceramente Abbastanza singolare Renzi Ieri in Puglia Ha fatto un discorso Che mi convince Ancora di più Di quanto ci sia bisogno Di una opposizione Un discorso Con una buona diagnosi Dei problemi E con una assoluta Mancanza di terapia E allora io penso Che ci sia bisogno Anche di ricordare Che durante le ultime Elezioni europee Per esempio Io ho notato Una differenza Fra il Renzi Elettorale E il Renzi Di questi giorni Perché in campagna Elettorale Aveva promesso Lo cito perché È un dato importante Che sbloccherebbe In tutto il paese Nel mezzogiorno Molti investimenti Lo svincolo Dal conteggio Del patto di stabilità Delle risorse nazionali Di cofinanziamento Dei fondi europei Parliamo di una partita Molto importante L'aveva promesso Solennemente Oggi è presidente Del semestre Sono passati tre mesi Rimane un trimestre Del tema Non se ne parla Ieri non ne ha accennato Io penso che Questo esempio Come tanti altri Testimonino Di quanto ci sia bisogno Come elemento aggregante Di un progetto Di governo Alternativo A quello che Renzi E la sua maggioranza Portano avanti E questa è la sfida Che noi dobbiamo Mettere in campo In chiusura Le chiedo Non soltanto perché Un suo corregionale Pugliese È tornato È tornato alla torre Uno dei due Marò È tornato Ed è in Puglia Tra quattro mesi Dovrà riprendere l'aereo Dopo essersi curato E rientrare in India Questi sono gli accordi Secondo lei Deve tornarci? Ma guardi Questo lo valuteranno A livello istituzionale Io penso che ci sia Un errore di fondo Che noi stiamo inseguendo Quello di aver rispedito I nostri due Marò In passato Con il governo Monti Un errore clamoroso Oggi abbiamo L'alto rappresentante Della politica estera europea Abbiamo la presidenza Del semestre Pensare che Questi strumenti Nelle mani del nostro governo Non siano sufficienti A risolvere Un problema di questo tipo Penso che Su questo si misurerà La capacità o meno del governo Di dare risposte concrete E questo è un tema Di grande rilevanza Al quale io attribuisco Un'importanza Che non è evidentemente Solamente collegata Ai nostri due Maroc Che sono oramai Un simbolo del nostro paese Ma anche al messaggio Che si dà Nel resto del paese Nel resto del mondo Sulla credibilità internazionale Del nostro paese E della politica estera europea Bene Lei tornerà a Bruxelles Tra breve Avremo modo di ritrovarci Di sentire come vanno Le vicende italiane A Bruxelles Nella comunità europea Buona domenica Raffaele Fitto Buona domenica E ben ritrovati a voi Ci vediamo come sempre Domenica prossima Questa è Sky TG24 Accadina